L'inococoli Materica è un vaso formato da diversi materiali. È stato ritrovato a Pitino di San Severino in una tomba di un principe. Si tratta di un oggetto speciale, uno dei più belli oggetti del Museo Archeologico Nazionale delle Marche ed è formato, per quanto riguarda il bocchello e l'anza, da una parte di avorio. Il collo è di restauro ed è moderno. Il ventre, invece, è formato da un uovo di struzzo che è decorato da un repertorio figurato molto interessante che riprende modelli orientali. Sono leoni, animali fantastici come sfingi, grifi e insieme a palmette e fiori di loto. Il piede è formato anch'esso da un elemento di restauro. Si tratta di un oggetto probabilmente donato al principe che era sepolto insieme a un ricchissimo corredo in questa tomba. Questo oggetto risale al VII secolo a.C. e quindi questi materiali venivano dall'Africa così venivano importati in ambito italico per realizzare questi oggetti di grande pregio, di grande lusso. Anche il bocchello è ornato da una bellissima rappresentazione anch'essa di ispirazione medio orientale che mostra una figura femminile con lunghi capelli e le mani trattengono le trecce.